In due parole voglio spiegarvi che ho deciso di aprire un blog in rete. Il vero blog, quello più importante, quello che io reputo la casa del cantiere che stiamo per costruire, la casa in rete del cantiere che stiamo per costruire inizierà a giugno, anche perché voglio essere scaramantico e aspettare il risultato delle elezioni. Però per adesso l'importante è stabilire subito un contatto diretto con voi. Aprirò un confronto permanente con tutto il popolo della rete, con le donne e gli uomini della rete, mi confronterò e soprattutto ascolterò le vostre opinioni, le vostre idee che per me saranno l'infa determinante in questi mesi per poi mettere le fondamenta decisive per il cambiamento del nostro paese in Italia oltre che in Europa. In questo blog troverete i miei appuntamenti, troverete quello che è sostanzialmente il mio pensiero, ma il motivo determinante che mi ha spinto è quello di ascoltarvi ogni giorno, la sera prima di andare a dormire, rispondervi e creare quindi insieme questo nuovo modo di fare politica. Solo insieme, solo se saremo in tanti potremmo cambiare, ognuno sarà protagonista di questo percorso rivoluzionario. Grazie per la visione!